allora fermo come vuoi fare qua giù tutta la sella vado avanti io allora il papà vedo che si è già lanciato un po troppo aspetta aspetta qua destra no di là di qua ti faccio io la strada aspetta 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 as Sì, è pieno. Scusa, vuoi che torniamo indietro? Tutto di qua, tutto di qua. Sì, mettete in parte che arriva uno in bicicletta. Ciao. L'hai fatta? Sì, l'ho fatta, ma non con tutta la vegetazione qua. Ok. Sì, sì, in qualche modo. Sì, l'ho fatta. Spione qua, un buchetto piccolo. Qua stai. Sì, l'ho fatta. Fai tutto di qua. Sì. Sì, l'ho fatta. Tutto liscio, tutto liscio. Tutto liscio. Sì. Sì, l'ho fatta. Sì, l'ho fatta. Sì, l'ho fatta. Mi spiego a piedi. Ma bene. Pian, pian. Pian che non c'è premura. Faticoso un po'. Sì, sì, sai, ti dico io. dai qua, soffro no, calma no, calma porca boia welcome to the jungle nan oh la beppa guarda qua dove siamo sembra con calma adesso forse qua è un po' più difficile, vediamo ah no, guarda ah no, guarda wow va, ok guarda, guarda, guarda dai chi sei? attenzione qua va vuoi riposarti un attimo? no, no, do tempo in pieni, dai, sempre boh boh, qua a me guarda, c'è un po' di sassi qua e qua è un po' più ripido vado a piedi a piedi o così, vedi ti beh, dai, ti accompagni tutto a destra piano 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 eh 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 guarda dove ci siamo venerdì sì, ma le robe amati qua comunque lo facciamo piano piano beh, no non è ripido questo no, no, no no, c'è qua c'è qualche sasso no no sì buon, qua molla, tranquillo tassetti vai liscio anche qua liscio wow eh? cosa? qua non abbia erodato se fessi qua, dai dai, no allora qua non è particolarmente difficile dai, no ma è le da prestare un po' di attenzione bello, bello qua mi piace ma anche a caldo eh? ah se ci mette l'impiscio sì qua forse un po' più ripido per te guarda come la faccio io prima è un po' inticcata è un po' inticcata bravo perché la bicicletta la pesa, no? sì, sì sì, perché ti è una bestia di genere la mamma la ti dice vado dove sul pallone? guarda che fai questa roba qua proseguiamo boh qua puoi risalire ok qua è facile c'è solo qualche sassettino anche qua la sassata facile a piedi da a piedi peggio a piedi con il passaggio non è un po' di più aspetta grande a a a a piedi da la giungla non finire direi che questo da fare d'inverno direi che questo è da far d'inverno se qua ci sono un po di rocce a piedi a piedi facile a piedi a piedi altro giro alla corsa no ho sbagliato dai qua è tutto facile ah è facile non è difficile qua tieni la sinistra ed è facile la sinistra è facile ok dai no attenzione qua davanti stai attento che no è fattibile perché non è difficile per niente però tu fa la piedi bene wow bello ora che scorcio dai che panorama spettacolo qua mi raccomando devo andare a sinistra eh questo è un po' tummazzo però attenzione qua eh il tutto fattibile ok molto bene qua stai a sinistra mtb a destra gira da sola qua ci sono due sassetti ma nulla vecchia a tutta piedi attenzione qua attento la c'è un buco un salto la e anche qua io qua tengo tutta la sinistra fai un po' più pendente vedi tu no se no ah ecco bravo no 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 sto pensando per dove andare ottimo qua puoi anche risalire c'è due radici ma nulla di che ora cazzo qua sembra facile qua è facile sinistra destra qua c'è solo qualche radice tieni la sinistra qua c'è un salto se vuoi qua c'è un salto se vuoi qua c'è un salto se vuoi piang ti hovi lancià si appunto qua sinistra no 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 va a faguro e va beh qua è andata così si ma finché arriva in su non è male va bene se fosse tutto così non arriva bene no 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 vado bene C'è un'istra? Aha. C'è un'istra? fa' attenzione qua, filistra, 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 filistra o mezzo insomma l'erba è pura di tagliarla e quando è in su? oh guarda che l'ho rifata fermo va dentro sinistra e poi destra ah no, faccio a piedi io un culo si, potete farla ma se mi pianta su per un paio si con la testa dura però vai manca di altro, quando sei caro la tua mamma con la testa rotta anche proprio in questo periodo che non ci vuole rie tu hai di sensato io sento o se calò piedi qua e si fa piedi a piedi che è meglio ****** ****** stai che è una ruspa spiene via tutto guarda che vedo qua com'è guarda che vedo qua com'è qua la prima parte ah no la puoi far tutta qua ah ah su guarda qua guarda qua che faccio attento e qua si tende e qua a piedi va e poi te la muro e poi te la muro ****** ****** ah che non vai sbucia una gomma eh che non sbucia una gomma e qua ok e qua 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 vediamo guarda qui direttamente qua si si non si non ci man niente di piedi qua sono un po' più alti le radici qua sono un bel sacco vai 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 Dio buon figlio che sacrifici hai il compagno? dobbiamo andare dove? avanti un po' avanti penso su o no sicuro te da questo? ma non era quell'altro che va in giù per la no? quella che va in giù non è un po' più non è un po' più Grazie a tutti. Grazie a tutti se non ti voglio. Sì, è obbligato. Sì, è sicuro che questa è la traccia. Sono gli ortigoni questi, non le ortighe. Ma a me mi pare che da qua non mi andrà nessuno. Guarda dove senta lì fuori qua. Qua ti va a sinistra è la madonna? O no? Che cara lei che strada. E? Sai che ho vissuto? Grande!